Questo è un progetto che può davvero fare la storia, dico sul serio, perché è un progetto assolutamente originale, assolutamente innovativo, ma nello stesso tempo possiede un potenziale enorme dal punto di vista comunicativo e mediatico. È un progetto che può avere una fortissima influenza su Milano e sull'Italia, ma avere anche una larga prospettiva internazionale. E oltretutto è un progetto non complicato da fare e nemmeno tanto costoso. Meglio di così è veramente difficile. Il punto di partenza è questo. Due anni ornai quasi e mezzo fa Milano ha vinto l'esposizione universale del 2015. In questi quasi due anni e mezzo non è successo assolutamente niente. E non è successo niente non soltanto per i normali tempi burocratici estenuanti, ma soprattutto perché l'idea di esposizione universale che Milano sta praticando e mettendo in scena in questo momento è un'idea vecchia, è un'idea ottocentesca, è un'idea novecentesca. Mentre noi siamo assolutamente convinti che con tutto quello che sta cambiando, in particolare negli ultimi anni, non si può veramente più progettare, pensare e comunicare come si faceva soltanto cinque anni fa. Allora, secondo noi l'esposizione universale del 2015 non può andare in scena nel 2015, ma ogni giorno da qua al 2015. Il modo per farlo è questo. Creiamo una cosa molto semplice come un sito web, Facebook e in generale una presenza forte sui social media. Decidiamo alcuni grandi temi di fondo in sintonia con quelli dell'Expo, per cui da una parte il tema del nutrimento e dell'energia che sono quelli su cui l'esposizione universale del 2015 andrà in scena. Dall'altro a quelli della città, dal punto di vista urbanistico, degli oggetti, degli spostamenti, dei percorsi, dei trasporti, della vita degli esseri umani in cui un'esposizione universale può andare in scena. E dall'altro ancora tutte le tematiche del mutamento, in particolare tecnocomunicativo, che fanno da grande scenario nel mondo globale a un'esposizione che si svolge nel 2015 e da qui al 2015. Questi temi noi li proponiamo a partire da Futurarium, da NAB e da Domunio a partire da Futurarium. Grazie a tutti.